Assessore Cuzzi, allora Pescara, prossimi giorni sarà la capitale del rock, Pescara Rock questa manifestazione che vedrà diversi gruppi esibirsi allo stadio Adriano Flacco. Sì, Pescara si accende di rock con questa importante iniziativa, con questo importante evento che porterà delle band di respiro internazionale come l'In Theater, gli After Hours e gli Antilsen e poi all'interno di questo importante appuntamento ci sarà il Pescara Rock Contest organizzato appunto l'assessorato al turismo che vedrà 15 band con dei brani inediti da tutta Italia sfidarsi sul grande palco del rock e la vincitrice avrà la possibilità di aprire il giorno seguente il concerto degli After Hours, quindi anche un'iniziativa di carattere promozionale del rock stesso che porterà il nome di Pescara in giro per tutta Italia. L'ingresso è libero per quanto riguarda il Pescara Rock Contest, quindi invitiamo tutti gli amanti del genere ma non solo tutti i pescaresi ad partecipare a questo importante appuntamento che nei prossimi anni verrà sicuramente potenziato, reso ancora più grande e più forte. Voi da poco siete al governo cittadino, ma cosa c'è da aspettarsi per quest'estate a Pescara per quanto concerne grandi eventi? Sicuramente partiamo con un'estate rock, poi conosciamo tutti qual è la situazione finanziaria e quindi abbiamo la possibilità con molta fantasia, con molto entusiasmo di creare degli eventi il tempo è poco però ci stiamo muovendo per far sì che Pescara durante il periodo estivo diventi molto più attrattiva di quello che è stata negli scorsi anni diciamo che si passa da un'amministrazione lenta a un'amministrazione rock